Una delle più dolorose di queste ferite aperte è la tratta di esseri umani, una moderna forma di schiavitù che viola la dignità, dono di Dio, in tanti nostri fratelli e sorelle e costituisce un vero crimine contro l'umanità. Mentre molto è stato fatto per conoscere la gravità e l'estensione del fenomeno, molto di più risulta da compiere per innalzare il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica e per stabilire un migliore coordinamento di sforzi da parte dei governi, delle autorità giudiziarie, di quelle legislative e degli operatori sociali. Con parole grate e riconoscenti, Papa Francesco ha salutato quanti prendono parte in questi giorni all'Assemblea della Rete Religiosa Europea contro la tratta e lo sfruttamento. Una piaga che colpisce specialmente donne e bambini e che non di rado vede una certa indifferenza e persino complicità, una tendenza da parte di molti a voltarsi dall'altra parte, mentre potenti interessi economici e reti criminose sono all'opera. Il Pontefice è ringraziato per l'impegno volto nel recupero e nella riabilitazione delle vittime, così come pure per la viva testimonianza al Vangelo della Misericordia. Grazie a tutti.